Io parto rapidamente con una breve presentazione. Giorgio Cittadini, classe 2002, è arrivato a titolo temporaneo dall'Atalanta, già nazionale Under 21 italiana lo scorso anno al Genoa e con le passate esperienze di Monza e Modena. Giorgio Iono, classe 2001, titolo definitivo, contratto fino al 30 giugno 2027, come sapete è il fratello di Anthony, nazionalità sia francese che gabonese e anche nazionale del Gabon. Le ultime stagioni al Bologna in Francia. Infine Giuseppe Ambrosino, classe 2003, 20 anni, prestito temporaneo dal Napoli dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Già nazionale Under 21, lo scorso anno al Catanzaro 28 presenze e 3 gol, vanta anche un Argento al Mondiale Under 20 con l'Italia in Argentina. Io lascio subito la parola al direttore Angelozzi che presenterà i ragazzi e poi le vostre domande. Grazie. Non sono tecnologico. Buongiorno, ben ritrovati. Vi presento questi tre ragazzi che fanno parte della filosofia della nostra società. Sulla mia terza Ambrosino, un 2003 attaccante, giocatore molto interessante. Sulla mia sinistra Giorgio Cittadini che è un giocatore secondo me molto forte. E' da qualche anno che lo ringuoro. Sono orgoglioso che quest'anno è voluto venire a Frosinone avendo altre squadre che lo cercavano. E l'Atalanta ha premiato anche il fatto che Frosinone ha lavorato bene l'anno scorso con Ocoli per cui ci ha rispettato. La ringrazio all'Atalanta e speriamo che lui ci fa vedere delle cose belle. Dell'altro lato c'è il gemello di Antonio che scherzando gli ho detto Antonio vedi che tuo fratello ti leva il posto e lui rite. Invece è un ragazzo che farà parlare di sé. Per cui siamo contenti come società di aver scelto questi ragazzi che fanno parte della nostra filosofia come società. Anche se voi certe volte dite sempre che manca l'esperienza. Io invece sono dal parere che non ci vuole l'esperienza, ci vuole di essere bravi i giocatori. Perché o sei giovane o sei anziano se non sei bravo non vai da nessuna parte. Ho finito. Se poi avete delle domande per me, magari prima le fate ai giocatori e poi sono a vostra completa disposizione. Esatto, iniziamo. Franco. Direttore, buongiorno. Bene arrivati a voi che siete da pochi giorni, da poco tempo nel prosinone calcio. Io vorrei cominciare con i cittadini per chiedergli nel ruolo che copri. In questi ultimi tre anni abbiamo avuto Gatti e poi continuano Ravanelli, Lucioni, Ocoli, Romagnoli. Questo può determinare in te l'assunzione di una responsabilità comprensibile? Oppure è uno simbolo in più per dare sempre il massimo in ogni partita? Allora, sicuramente devo rispettare le aspettative che ci sono perché, come dice lei, sono passati i grandi difensori da qua. Ma comunque io ho sempre fatto il massimo che potevo e sicuramente quest'anno lo farò. E quindi mi impegnerò al massimo per dimostrare che sono anch'io all'altezza di questo ruolo. Grazie. Agli altri due chiedo che compagni avete trovato qui nel prosinone, ma non dal punto di vista dei valori tecnici, ma per quello spirito di gruppo, di sfogliatoio che deve una squadra avere per rendere sempre al massimo. Io ho trovato subito una squadra con delle persone fantastiche, a partire dai giocatori, fino ad arrivare i magazzinieri, il direttore stesso, il mister, tutto lo staff, delle persone davvero fantastiche che mi hanno fatto sentire subito a casa. E quindi non posso che ringraziarli. Anthony, che compagni hai trovato? Penso che le compagnie qui sono bene con me. C'è anche Anthony e Fares che sono francesi e per me è più facile di parlare con lei, però provo a apprendere l'italiano per parlare con tutta la squadra. Quindi ogni giorno è migliore. Volevo dire che questo ragazzo è da poco che sta con noi e già capisce benissimo l'italiano e si sta sforzando a parlare l'italiano. Non abbiamo messo un traduttore perché voglio che lui si inserisce prima possibile parlando l'italiano, ma è molto intelligente, è più intelligente di Antonio. Ciao a tutti, Roberto Mercaldo, benvenuti innanzitutto a far parte della nostra famiglia. Per conoscerci un pochino meglio io farei a tutti e tre sostanzialmente la stessa domanda. Vorrei sapere al momento quale ritenete che possa essere la vostra virtù calcistica, la vostra peculiarità, insomma le cose nella quale già vi sentite molto pronti, molto bravi e quale viceversa è la caratteristica nella quale dovete migliorare nell'aspetto tecnico, tattico, eccetera. Ecco, una piccola presentazione da ciascuno di voi. Parto io, ciao Roberto, buongiorno. Allora, sicuramente io mi sento molto sicuro dal punto di vista fisico e a livello difensivo mi sento un giocatore già diciamo formato e sono qui apposta per, secondo me, anche parlando col mister e il direttore per migliorare quell'aspetto dell'impostazione di gioco e di controllo palla. Mi manca un po' quella sicurezza che sono qui per migliorare. Ciao, buongiorno. Io mi ritengo un giocatore a livello offensivo abbastanza forte fisicamente, bravo tecnicamente, quindi credo che possa avere le caratteristiche che richiede il mister. Anthony. Jeremy. Penso che il mio gioco è un gioco davanti, mi piace andare davanti con la palla e mi piace anche difendere. Ho qualità similare con un tuo, penso. Posto. Marzilli. Innanzitutto benvenuti, Marzilli, Radio Cassino. Benvenuti a tutti in questa piazza. Una domanda subito al direttore. Continua la politica dei giovani, perché mi sembra di capire che anche lo scorso anno, nelle varie presentazioni, l'età era fondamentale. La scelta di questi tre giocatori e degli altri che poi presenteremo, se non sbaglio, la settimana? Ah, ok. Perfetto. Allora, ragazzi, chiedevo cosa conoscevate della storia del Frosinone. Lo sapete che vi aspetta un impegno importante, perché il rapporto con la tifoseria è fondante in questa squadra. Volevo chiedere a ognuno di voi, a parte te che sicuramente tuo fratello te ne avrà parlato, di cosa vuol dire giocare nel Frosinone, cosa vi pensate di poter promettere ai tifosi, anche se è presto. Grazie. Sicuramente, io negli ultimi due anni sono passato da questo stadio e anche nell'anno della vittoria della Serie B sono passato e sono rimasto molto stupito dall'attaccamento dei tifosi della maglia, da quello che ci mettono. Sicuramente c'è da rispettarli e portare alto l'onore, il loro onore. e ovviamente faremo tutto il possibile per fare questo. Io, come ha detto Giorgio, anch'io sono passato per qui l'anno dello scudetto e anch'io subito ho visto il calore dei tifosi e possiamo sicuramente promettergli di dare il massimo per ripagare questo calore. Sì, conosco un po' perché prima ero un po' un tifoso di Frosinone con Anto, quindi conosco un po' la stagione in Serie A e so che è importante per i tifosi di essere in Serie A ancora. Intanto salutiamo anche Antonio che ha raggiunto il fratello. Max? Ciao ragazzi, Massimo Papitto, gentecomuneweb.it Intanto benvenuti, volevo fare una domanda a tutti e tre. A Giorgio volevo chiedere qual è stato il tuo primo impatto con il mister Vivarini? Ad Ambrosino volevo chiedere nelle prime amichevoli ti ho visto giocare anche esterno di sinistra. qual è il ruolo dove pensi di poter far male all'avversario, il tuo ruolo migliore, diciamo? A Giorgio volevo chiedere qual è la differenza che hai visto negli allenamenti tra il calcio francese e quello italiano? Grazie. Allora, subito appena sono arrivato con il mister c'è stato un bel impatto perché abbiamo subito discusso di ciò che c'è da migliorare e questo a me piace molto anche perché è una persona molto aperta al dialogo e mi sono trovato subito benissimo. Inoltre, anche dal punto di vista tattico, è molto preparato e mi piace perché vuole sviluppare un gioco tutto suo e ce la sta mettendo tutta e quindi sono molto contento del mister. Ma diciamo che il mister a noi cerca di farci scambiare molto quindi a volte posso fare l'esterno, a volte è la seconda punta come a volte è la punta però io penso che l'importante è dare il massimo e cercare di far male agli avversari in qualsiasi volume mi metta quindi non penso molto a dove mi metta. Per me la differenza è che il lavoro è molto più tattico qui con il mister e l'alimento è più fisico qui. Ultimo e poi lasciamo i ragazzi. Buongiorno, benvenuti a tutti. Stefano Martini, tutto Frosignone, tutto Mercato Web. Quello che vi chiedo è nel vostro percorso di crescita fin qui qual è stato l'allenatore o la figura più importante per voi fin qui che vi ha magari maggiormente formato e poi se avete un idolo qualcuno a cui vi ispirate nel giocare. Allora, sicuramente negli ultimi tre anni non c'è stato un allenatore che mi ha dato più di un altro. Ho preso molto da entrambi gli allenatori che ho avuto e questa cosa mi dà molto perché sono cresciuto sotto molti punti di vista e sono qui oggi per dimostrarlo. Negli ultimi anni sicuramente ho iniziato a ispirarmi a Rudiger che mi piacciono molto le sue caratteristiche a livello difensivo e quindi diciamo mi ispiro a lui. Allora, io diciamo che faccio parte del calcio dei grandi diciamo da poco quindi posso sicuramente dire che il mister che finora mi ha dato di più è il mister Bivarini che l'anno scorso mi ha dato molta fiducia e sta continuando a darmela quest'anno facendomi venire qui. Per quanto riguarda l'idolo il mio idolo che ho fin da bambino è Ibrahimovic. il mio idolo non ho idolo però mi piace a mio posto Walker penso o Hakimi direttore allora volevo chiederle molto brevemente nel quadro della formazione delle coppie per completarlo ovviamente quante trattative pensa ancora di dover chiudere? Qualcosina ancora la facciamo oggi siamo quasi in chiusura con un altro attaccante Pecorino oggi stiamo facendo lo scambio dei documenti per cui penso che in giornata avremo questa altra ufficialità e domani sarà qui con noi questo ragazzo della Juve che l'anno scorso giocava su Tirol qui insomma siamo sulla buona strada dobbiamo completare un po' un centrocampista se se dovesse andare via Brescianini che lo sapete insomma che è abbastanza richiesto di squadre per cui molto probabilmente se va via abbiamo bisogno minimo di un altro centrocampista e forse dopo vediamo valutiamo un po' quello che ci manca in fase di difensiva siamo quasi a posto perché voi vi scordate che noi abbiamo tre giocatori che sono lì per lì per essere pronti e aggregarsi alla squadra che sono Oiono che stava qua Antonio già è quasi pronto e pronto insomma nel giro di 15 giorni è disponibile Lusuardi già si sta allenando con la squadra e Calai si sta allenando sta entrando piano piano insomma ci vorrà magari un mesetto per lui però sono tre giocatori importanti che ve li siete scordati però ve lo ricordo per cui prima di andare a prendere altri giocatori di fare confusione a me non mi piace fare confusione sapete che quello che serve la società cerca di accontentare a tutti quanti direttore lei in parte mi ha già risposto alla domanda che volevo fare appunto sottolineando che in fondo la difesa alla luce di questi che saranno i rientri più o meno immediati è messa meglio di quanto si possa immaginare una prima lettura disattenta ora lei ci ha sempre abituato però a dei finali di campagna acquisti un pochino scoppiettanti e sorprendenti quindi noi ci aspettiamo da lei che anche questa volta tiri fuori dal cilindro il coniglio che può essere il giocatore che poi durante l'anno tutti quanti diciamo però però ha visto chi ha trovato Angelozzi alla fine perché adesso dobbiamo riconoscere che molto spesso abbiamo accolto non dico con perplessità però senza particolari entusiasmi giocatori che poi durante la stagione abbiamo visto quanto fossero bravi quindi ci fidiamo di lei al 100% però ecco quello che volevo chiederle rispetto alla squadra che andrà a disputare il campionato quella che vedremo con il Pisa quanto c'è ancora in percentuale da modificare? ma non lo so a parte non lo so chi giocherà col Pisa andando ti ringrazio per la fiducia che hai espresso nei miei riguardi ma non è l'anno scorso magari qualche anno fa abbiamo fatto gli ultimi giorni abbiamo perso qualche giocatore che poi si è rilevato importante io sinceramente sono molto contento della squadra che abbiamo adesso come formata è una squadra che ha parecchi giocatori bravi si sta formando abbiamo fatto un bel ritiro si sta formando un bel gruppo chi ha avuto la possibilità di andare in Serie A l'abbiamo lasciato andare perché noi non vogliamo trattenere nessuno per forza e mi riferisco ai vari Arui Marzitelli poi chi è andato via quelli in prestito sono andati via forse andrà via pure Brescianini però abbiamo dei ragazzi che sono rimasti che sono molto bravi io vorrei elogiare un giocatore che secondo me ha dimostrato di essere attaccato a questa maglia a questa tifoseria a questa città alla società dico un po' tutto che è Riccardo Marchizza che aveva la possibilità di andare in Serie A però ha voluto sposare il progetto Frosinone e secondo me questo qua è un valore molto molto importante che ha dimostrato di avere verso tutti verso la società verso voi verso i tifosi per cui dico grazie a Riccardo che ha fatto questa scelta è un altro giocatore così è stato Gelli che aveva la possibilità pure lui di andare in Serie A però hanno sposato il progetto Frosinone e questo a noi come società ci riempie di gioia di orgoglio che ci stanno dei giocatori che veramente amano questa società e questa città questa è la cosa più importante per me e per tutti noi del nostro presidente e penso pure per voi ripeto qualcosa la facciamo ora a dirvi cosa facciamo perché abbiamo pure qualche giocatore che deve andare via per cui vediamo cosa succede oggi ce ne abbiamo oggi quando ce ne abbiamo nove ci sono 21 giorni e ripeto oggi chiudiamo un'altra operazione importante perché prendiamo un attaccante che con caratteristiche che non c'avamo in rosa perché voi fateci caso noi abbiamo preso perché ci stiamo dimenticando oggi ne sono arrivati tre ragazzi che sono stati presentati però ci sta Di Stefano forse ve l'ho dimenticato c'è stato Bergic e Nuova e Senè poi questi qua e oggi già siamo a sette giocatori nuovi diciamo che arriveranno a dieci nuove e più devo prendere pure un portiere ci vuole un altro portiere della rosa però li facciamo e poi qualche giocatore sia giovane che più esperto che deve andare via speriamo che insomma per il bene di tutti che trovano quella la sistemazione pure che deve andare via però ripeto sono molto contento di come stanno andando le cose che gli altri anni forse eravamo più in ritardo di come siamo partiti quest'anno perché siamo partiti con una base perché cento volte sento dire ma sono tutti in prestito andate a vedere se sono tutti in prestito e ci abbiamo più di 15 giocatori che sono di proprietà del Frosinone l'ultimo che è arrivato Jeremy è nostra proprietà era svingolato però l'abbiamo pagato perché c'è la training compensation che è da pagare quando si pittano i ragazzi giovani dall'estero svingolati e dopo qualche altra operazione la facciamo in entrata e vi ricordo pure che abbiamo dei giovani molto ma molto forti che sono di proprietà del Frosinone parlo di Cicchella e Vural che sono giocatori che magari qualcuno non pensava che potessero stare nella rosa del Frosinone invece ci stanno e saranno una rivelazione per il Frosinone a me levo di sovra il Frosinone direttore io sono d'accordo con quello che hai detto anzi sono fiducioso nel tuo lavoro e della tua abilità perché sicuramente come sempre ci farai la sorpresa prima della fine della campagna acquisti e cessioni in entrata in entrata dico la sorpresa in entrata perché De Brescianeni ci hai parlato capisco anche il discorso della privacy ecco puoi fare un po' il punto di quei giocatori che attualmente non sono disponibili per acciacchi aria anche dovuti alla preparazione che è stata dura eccetera e correggimi se sbaglio io sono convinto che tu da qui alla fine di agosto comprerai ingaggerai un difensore un centrocampista e un attaccante esterno sbaglio? secondo me oggi abbiamo preso un attaccante in avanti siamo completi non è che abbiamo tanto da da cambiare c'è da migliorare col lavoro quest'anno ragazzi io ripeto vedo una squadra a me piace molto la squadra che abbiamo in più il colpo che abbiamo fatto perché siamo io e il presidente insomma quelli che facciamo danni o le cose belle e il colpo nostro è Bivarini non è che ci stanno i giocatori il nostro colpo è stato il colpo di Stirpi e Angelozze è stato portare un allenatore che l'anno scorso è stato il miglior allenatore della categoria che faceva un calcio bellissimo e abbiamo speso molto sull'aspetto umano a convincere l'allenatore a venire a allenare Frosinone è venuto e siamo soddisfatti per cui il colpo è quello dopo ho detto miglioreremo la squadra dove si può migliorare però non vi aspettate grandi cose perché già per me l'abbiamo fatto grandi cose perché il difensore siamo quasi tutti completi perché non so se c'eri tu Amedeo prima noi abbiamo quattro difensori centrali parlavo del portiere un altro portiere lo prendiamo un portiere che il titolare è Cerofolini uno che lo affianca che affianca pure a frattali perché devono essere tre portiere lo prendiamo un portiere e quest'anno se stiamo facendo non è l'anate l'ultima che poi siamo andati in Serie A quando abbiamo preso Lucioni l'ultimo perito abbiamo preso Ravanelli e l'altro difensore quello siciliano Sanperisi l'avevamo preso prima Mazzitelli gli ultimi giorni sono stati Fabbotta Sanperisi no Insigne prima l'avevamo preso sono state situazioni di mercato che si sono svolte e si è capitato però non è sempre noi adesso abbiamo una squadra completa abbiamo cercato di cambiare di fare quasi tutti giovani se vedete non ci stanno quello più anziano è frattale che non è un titolare è un uomo spogliatoio una bandiera una persona che aiuta molto alla squadra tutti quanti per cui siamo orgogliosi pure di tenere frattali ma gli altri sono tutti ragazzi giovanissimi perché è iniziato un percorso nuovo Amedeo questo è un percorso nuovo perché quest'anno ci stanno delle squadre che si stanno attrezzando che noi non possiamo competere con squadre come Sampdoria Cremonese Palermo Sassuolo sono delle sono dei cararmati che non io sono sincero per cui noi dobbiamo cercare di creare una base perché abbiamo due anni siamo due anni con Vivarini nel giro di due anni tre anni cercare di riportare di nuovo i professionali in Serie A io dico quest'anno noi dobbiamo essere una squadra che diverte che cresce che costruisce per avere la forza di andare avanti questo è il progetto ve lo dico non vi aspettate giocatori di nome che nel senso che a parte non è che a me mi piacciono i giocatori di nome a me piacciono i giocatori bravi io dico che vi facciamo divertire facendo un bella come abbiamo fatto l'anno scorso in Serie A per me abbiamo fatto un grande lavoro è finito male però come retrocessione però come diciamo di lavoro io sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto peccato che poi il destino ci ha voluto punire siamo andati giù però abbiamo fatto 35 punti in tutti gli stati dove siamo andati ci siamo giocati la partita a viso aperto con tutti essendo una piccola realtà per cui questo qua vi possiamo promettere il presidente Stirpe e Guida Incelozzi diversamente non possiamo promettere scusa no prego per quanto riguarda gli attuali disponibili ah sì scusa sì no no siamo sulla buona strada cioè se c'erano dei problemi con gli disponibili sono tre giocatori sono tre importanti ora si è aggiunto pure che mi dispiace che è un giocatore forte che ha avuto un problema alla spalla e deve stare fermo per minimo un mesetto questo mi dispiace gli altri sono Oiono è già quasi pronto insomma deve trovare l'ultima partita e già si sta allenando piano piano sta entrando il gruppo però ci vuole 15 giorni per essere insomma disponibile l'usuale già è quasi dentro cioè nel giro di due settimane sono a completa disposizione abbiamo tre difensori forti che erano fuori e adesso sono disponibili e poi dopo potersi dobbiamo trovare un'alternativa a a a a a a a a a un esterno di difesa per completare per essere completate la perché adesso sono in sette devono essere e più un ragazzo giovane sono otto ma devono essere otto più un ragazzo giovane che fa il quinto e noi siamo lì messi bene centro campo se va via Brescianini dobbiamo sostituirlo con un altro giocatore insomma diciamo come 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 lui però ci abbiamo pure due ragazzi che sono molto interessanti sono giovani non gli vogliamo dare troppa pressione però sono due giocatori forti Cicchella e e Vural sono due ragazzi che col tempo possono possono colpire a tutti quanti direttore io a parte che sia Medeo che anche per il portiere quindi conferma che verrà preso un portiere ma il titolare sarà Cerofolini sì questo allora la formazione la fa Vivarini io faccio la rosa ok quindi però la scelta ricadrà su un portiere da affiancare a Cerofolini però Cerofolini insomma sta dimostrando di essere portiere titolare l'anno scorso ha giocato più di dieci partite in Serie A per cui siamo contenti certo concordo con lei sulla scelta che il miglior acquisto fino a destra è stato quello di Vivarini perché gestire anche un gruppo di ragazzi è fondamentale una persona che li guidi ma ha pensato che attualmente chi sarà il leader chi sarà la chioccia di tutti di questo gruppo o uno degli acquisti riguarderà proprio un giocatore di spessore che possa avere questo ruolo grazie l'ho detto prima ho detto Marchizza sarà il nuovo capitano e lui che poi è un 98 insomma per me è già anziano per cui non sì per me sì nel senso anziano calcisticamente cioè per me i giocatori devono essere 2003 2004 2005 non sono pedofilo però voglio di prospettiva di crescita e poi ripeto se un giocatore è forte o è giovane o è anziano è sempre forte se uno non sa giocare tu puoi avere l'anziano ma non è capace di essere un leader o di essere forte per la squadra io ripeto sono molto fiducioso principalmente perché abbiamo preso Vivarini e il suo staff che è uno staff di alta qualità è un allenatore che stiamo proseguendo se voi ci fate caso il grosso di Francesco e Vivarini sono tutti allenatori propositivi che piace fare bel gioco poi si può vincere si può perdere però che hanno un'identità la squadra ha una filosofia portiamo avanti noi portiamo avanti un certo tipo di lavoro e speriamo di continuare di essere sempre bravi e fortunati perché ci vuole anche il pizzico di fortuna di fare dei bei campionati e di anche vincere perché poi alla fine è sempre il risultato che ti fa vedere le cose belle direttore buongiorno un piccolo chiarimento che volevo sapere è se prenderemo un centrocampista a prescindere se Brescianini va via o in quel caso se se ne va Brescianini diventano due e poi le volevo chiedere appunto a tal proposito se magari giocatori come Darbo o Iaccarino sono giocatori che le piacciono che le interessano e invece dal punto di vista delle uscite dato che ormai la situazione è abbastanza chiara insomma ha parlato mister Vivarini ha detto che caso vuole andare via insomma ha scelto di non scendere in campo se ci sono delle offerte insomma quanto è concreta la possibilità che possa andare via e non resti qui fuori Rosa allora quanto riguarda Darbo e Accarino sono due giocatori che seguiamo se c'è la possibilità sono nel nostro nella nostra orbita ma ce ne stanno pure altri che stiamo monitorando allora sicuro un centrocampista lo vedremo se va via Brescianini e se è possibile se trovo pure un altro centrocampista mi piacerebbe a me al mister di prenderlo perché così sarebbero diciamo in totale cinque in genere sono quattro centrocampisti e due per le coppie che stanno però sempre ne vogliamo prendere uno in più nel senso magari giovane che sa e cresce e poi te li ritrova già ce ne abbiamo due giovani uno deve essere diciamo che ha fatto qualche campionato e gli altri ma sempre giovani che hanno fatto i campionati Darbo e Accarino pure l'anno scorso già ha fatto un campionato di Serie C ma ci stanno pure altri giocatori per cui lì dobbiamo migliorare sono d'accordo con te con voi e per quanto ricordo le uscite che sono quelli tre quelli là più Scimischi Canotto e Caso a oggi ha avuto solamente qualche richiesta a Scimischi a livello di una squadra svizzera di Serie A però non ho voluto andare aspetta qualche altra cosa quando ricordo Caso a oggi non abbiamo avuto nessuna richiesta vediamo insomma ci stanno 21 giorni speriamo per lui che trovi la squadra perché io sono sincero cioè la mista gli aveva dato l'apertura però lui non l'ha voluto pazienza rispettiamo rispettiamo tutti però pure io vorrei andare con la bella donna la bella donna non ci viene con me e rimango da solo lui pensa di andare in Serie A spero per lui che ci può andare questa è la situazione ultima ciao direttore buongiorno Massimo Papitto gente comune web volevo chiederti per quanto riguarda Brescianini se sono soltanto Napoli e Atalanta le squadre che l'hanno richiesto se c'è anche un'altra squadra o magari qualche richiesta dall'estero e se il ragazzo a che punto è la sua trattativa per la cessione se verrà impiegato in Coppa Italia se giocherà la prima di campionato se il giocatore ha dato disponibilità a giocare ecco questa è una bella domanda allora Marco fino adesso fino a oggi ha giocato sempre ha dato veramente è un professionista molto serio molto ha giocato ha giocato l'ha impiegato contro il Potenza pure dal difensore centrale lui è un ragazzo splendido nel cuor suo capisce che ha delle possibilità di squadre importanti che lo vogliono non solo quelle squadre che hai detto tu ci stanno pure altre squadre ora non voglio fare pubblicità di altre squadre perché non mi piace è un giocatore richiesto e lo vogliono in tanti ora bisogna valutare perché succede questo che quando giochi nelle partite di campionato o di Coppa Italia che sono partite ufficiali dopo ti salta una squadra che magari ti piglia un'altra squadra più di due squadre non puoi giocare mettiamo il caso che Angelozzi gioca lunedì poi arriva martedì o entro il mercato arriva la squadra di Amedeo che lo compra dopo nella squadra di Amedeo a gennaio le cose non fanno bene se Angelozzi ha giocato in due squadre non può essere più trasferito in un'altra squadra per cui è una cosa che bisogna valutare attentamente per il bene della squadra per il bene del giocatore per cui una valutazione faremmo perché fino a oggi non è partito Becerini per cui ci sono ancora fino a lunedì ci sono tre giorni quattro giorni la valutiamo insomma non non ci abbiamo pensato però c'è questa questa situazione che è da ragionarci grazie direttore e grazie a tutti grazie a voi